si deve focalizzare questo specchietto qua che vista dall'alto vi fa vedere il fanale aggiuntivo quando la barca è dai 50 metri in su perché se no cos'hai? il verde a destra, il rosso a sinistra il bianco davanti, quindi verso prua e il bianco dietro verso poppa che poi se la barca è piccola come la tua è una luce unica se la barca è grossa sono due luci staccate ma il succo è questo che quando io arrivo dietro raggiungo una barca vedo il bianco che la identifica e come gradi sono 135 perché se mi ricordo il 225 che è l'ampiezza che irradia la parte davanti quindi il fanale di testa d'albero che guarda verso prua gli altri sono quelli che mancano a fare 360 gradi quindi 225 e la 360 sono 135 quelli laterali sono la metà di quello davanti quindi 112 gradi e 30 primi 112,5 gradi questo se io mi ricordo il 225 gradi fanale in testa d'albero gli altri li ricavo tutti 135 e la metà 112 gradi e 30 primi devo ricordare il 225 poi se parla di una barca dai 50 metri in su so che ce n'è un altro identico come quello in testa d'albero che è posto di solito sull'albero di trinchetto che è più in alto ma è sempre di 225 gradi l'albero di trinchetto è l'albero più alto che infatti c'è sempre un albero più alto e questo qui è un albero più alto dell'altro perché la luce bianca deve essere 4,5 metri più alta 4,5 metri più alta e qui c'è scritto di notte qui adesso le vedo così viste dall'alto è per capire i gradi non per altro di notte poi le vedo così cioè di notte vedrò queste così se gira in questo modo lateralmente vedo il verde se vedo il lato destro perché se vedo il lato sinistro ovviamente vedo il rosso poi il discorso della lunghezza è solo una questione di raggruppamento delle luci perché sotto i 12 metri il rosso e il verde possono essere vicini sempre col settore di visibilità che non cambia per quello che dico quello schema là vale per tutti quello che cambia è solo il fatto che lì sono raggruppate se ho un unico luce bianca che fa tutte diciamo prue e poppa se poi vado dai 12 metri in su le luci bianche devono essere staccate se vado dai 20 metri in su anche le luci verde devono essere staccate però i gradi sono sempre quelli che sia un piccolo a 10 metri capito? quello è solo chiaro che se mi fanno vedere una rappresentazione di questo genere la risposta sarà che la barca è sotto i 12 metri addirittura sotto i 7 metri si potrebbe avere solo una luce bianca capito? la tua barca quanti metri è? 9 metri ecco però per dire anche una barca da da certo perché se è in questo regime qua ci sono alcune barche che invece anche se è un 10 metri ci hanno tutte staccate ma quella è una cosa di costruzione non di regolamento però gli angoli rimangono sempre c'è un 120 gradi 30 primi 225 135 che sono insieme li vedo per 360 ma anche qui li vedo per 360 perché dovunque arrivo io vedo sempre il bianco il bianco lo vedo in tutte le posizioni in tutte le posizioni e il rosso e il verde che non le vedo se sono negli angoli dei 135 gradi non vedo il rosso e il verde perché sono dietro e vedo solo il bianco perché questo la parte dietro non fa vedere il rosso e il verde perché il rosso e il verde lo vedo nel momento in cui esco dai 135 gradi quindi dai 136 gradi fino a tutto l'arco è di 225 gradi vedo il rosso e il verde è chiaro che se sono di qua vedo solo il rosso e di qua vedo solo il verde si parte da questo da questo principio no? quindi nel momento che di notte vedo la posizione 1 cosa fa quella barca lì? mi viene addosso mi viene contro e poi dopo il lato destro vedo il verde e il bianco e il lato sinistro invece vedo il rosso qui non scappa la figura non mi fa sbagliare perché avendo due luci bianche è una questione di lunghezza quindi una lunghezza di 50 metri in su quando vedo due bianchi sempre 50 metri in su perché 50 metri in giù sotto i 50 metri in inferiore in inferiore diciamo ai 50 metri e vedo uno solo uno solo e poi il lato dritto e il lato sinistro è il colore se vedo un bianco solo un bianco potrebbe essere qualsiasi barca vista di poppa qualsiasi perché vedo tranne se è un rimorchiatore sono nove perché hanno il giallo quello che distingue la barca vela è semplicemente che la barca vela non ha non deve accendere il fanale bianco in testa d'albero non deve accendere il fanale bianco e ha le luci facoltative quindi facoltative vuol dire che a volte le accende a volte no il rosso e verde al posto del fanale bianco ha le due luci facoltative quindi il rosso e verde visibile per 360 gradi quindi vedi sempre ma sono facoltative quindi se di notte io vedo passare solo una luce rossa cosa l'è? la barca vela la barca motore si è bruciata la barca vela o se vedo solo così il rosso e il verde davanti è una barca vela vista di prua si perché il lato è il lato destro tu vedi solo il verde ti passa così il lato destro se vedi il rosso il lato sinistro se vedi tutte e due vuol dire che ce l'hai di fronte quindi queste ci possono essere accese o esatto perché se no è capito queste qua invece sono facoltative quindi se le vedi accese distingui più velocemente ma se possono spente non cambia niente quindi il rosso e il verde sono visibili per 360 gradi quindi anche di poppa le vedi a differenza invece di queste perché vengono chiamate di via queste qua altra cosa importante da ricordarsi perché c'è movimento il rosso e il verde le tieni accese solo quando c'è movimento se uno è all'ancora quando uno è all'ancora le spegne e tiene solo la luce bianca quindi quando la barca è all'ancora tiene solo accese la luce o le luci bianche quindi inferiore ai 50 metri la luce bianca quando è all'ancora se invece c'è movimento il rosso e il verde devono essere tenuti accesi per forza poi la distinzione è se sono dai 50 metri in su ne avrò due quando sono all'ancora se supero addirittura i 100 metri devo tenere accesi tutte le luci dei ponti di coperta perché il rischio con la nebbia che uno ne scambia per due si passa in mezzo e succede chi naviga di notte uno mi ha raccontato che una volta era buio e c'era il mare agitato a momenti ha scambiato una petroliera per un'isola quindi insomma si fa infezza quando è nebbia foschia e allora bisogna tenere accese tutte le luci dei ponti di coperta superiore ai 100 metri qui la differenza è all'ancora non ho movimento quindi non ho abbrivio e il rosso e il verde di via li spengo e accengo il bianco i bianchi delle diciamo degli alberi questa è l'altra distinzione questa è l'altra distinzione poi cosa quindi la barca vera abbiamo capito cosa la distingue il fatto che spegne non ha il bianco del testa d'albero potrebbe avere rosso e verde in testa d'albero visibili per 360 gradi cosa distingue una barca ferma spente le luci di via rosso e verde poi cosa distingue l'aliante no l'aliante l'idrovolante in flottaggio quindi navigazione che ha le stesse identiche luci ma se noi vediamo il bianco visto di prua normalmente nelle barche è in alto invece qui è in basso questo è quello che distingue anche lateralmente poi vederlo dietro di poppa è sempre la stessa cosa quindi si distingue nella figura no quando ci fanno vedere le figure vediamo il bianco più in basso no perché può essere qualsiasi barca e anche un idrovolante invece normalmente lo distingui perché perché il bianco è più alto sempre più alto nelle barche normali quando ho focalizzato questi quattro punti essenziali dopo le altre devo ricordarmi le varianti quindi a queste luci qua fondamentali di base queste luci di base esistono sempre le 4 o 5 luci di base esistono sempre le altre sono aggiunte le altre che adesso andiamo a vedere sono aggiunte cosa vuol dire cos'è che aggiunge il rimorchiatore il rimorchiatore aggiunge un fanale di rimorchio giallo disposto di sopra fare il poppa e poi aggiunge un fanale in testa ad albero se il rimorchio che sta trainando è inferiore ai 200 metri se invece il rimorchio che sta trainando è superiore ai 200 metri ne aggiunge 2 quindi di notte cosa vedrò se vedo visto di di prua vedo 3 bianchi 1 rosso e 1 verde e so che il rimorchio è superiore ai 200 metri poi ci sono quelle che danno delle segnalazioni particolari tipo la nave che non governa la nave incagliata la nave che ha un'immersione particolare vincolata alla sua immersione allora i due rossi innanzitutto sono visibili per 360 gradi sono visibili ad esempio se i due rossi sono legati all'accensione delle luci di via vuol dire che la barca ha movimento quindi è una barca che non governa si rompe il timone si muove quindi deve tenere acceso il rosso e il verde non governa lo dice con due luci rosse invece se è incagliata e il rosso e il verde lo spegne perché non ha movimento accende i due bianchi come fosse all'ancora ma in realtà ti dice guarda che ho anche due luci rosse quindi vuol dire che sono fermo lì perché perché non mi posso muovere sono incagliato quindi la differenza è questa incagliata ci sono quelli dell'ancora in più rotto il timone quindi diciamo che avaria quindi non governa ha acceso il rosso e il verde per dire sono in movimento ma è un movimento che non riesco a controllare quindi capito la differenza no? quindi ci sono sempre di mezzo le luci di base e invece se ne ha tre di luci rosse è condizionata dalla propria missione del proprio pescaggio nella parte sotto è molto profonda quindi avrà difficoltà di manovra chiaramente se questa se è tipo una petroliera no? che ha tre luci rosse incontra uno di queste due deve manovrare lei ma se un traghetto incontra una petroliera manovra il traghetto no? queste sono le varianti la nave pilota ha l'aggiunta del rosso sotto il bianco perché il rosso sopra il bianco è il peschereccio e il verde sopra il bianco è un altro peschereccio quello che ha strasci quindi in profondità quindi il verde quello non ha strasci quindi in superficie che è più pericoloso mette il rosso e se l'attrezzo che esce fuori supera i 150 metri lo segnala anche con una luce supplementare bianca così quando uno arriva vede rosso bianco un peschereccio vede questo sta lontano quindi i pescherecci sono legati da il rosso e il verde sopra il bianco perché sotto il bianco è il pilota i rossi qua per nave che non governa sono nave incagliata e quella vincolata alla propria immersione il rimorchiatore invece ha il bianco in più ho gli altri due bianchi sopra il fanale in testa d'albero base se fino a 200 o oltre 200 in poppa ha invece il discorso del giallo quindi quando io vedo bianco e giallo vuol dire che è un rimorchiatore che sta rimorchiando però il giallo lo vedo solo di poppa il dragamine è facilissimo perché è l'unico che ha questi tre palloni verdi in più di tutto il resto l'overcraft è facile perché è il giallo lampeggiante quindi non posso sbagliare e poi c'è questa qua cioè il bianco cioè il rosso bianco e rosso oltre a tutte le luci è un po' un jolly che dice che la barca ha difficoltà a manovrare sta facendo lavori che le rendono difficoltoso la manovra quindi posacavi dragaggio non dragamine dragaggio operazioni subacquee ma tutte queste cose qui che rendono difficoltoso lo spostamento rosso bianco e rosso e bisogna ricordarsi queste cose qua poi c'è questa che ti fa vedere il lato ostruito e il lato libero quando c'è una barca o un qualcosa che sta facendo delle operazioni di dragaggio di fondo e ovviamente indica coi due rossi la parte ostruita adesso qui la figura è al contrario o i due verdi dove puoi passare quindi di notte vedi una situazione di questo genere questa qua la posizione di di lì non passi perché è il lato ostruito invece di qua puoi passare perché è il lato libero invece qui vista di prua però c'è sempre questo rosso bianco e rosso caratteristico di lavori vari lavori va bene abbastanza grazie a tutti Grazie a tutti.